L'idea era un potenziale sicuramente importante anche sui cambi, fuori uno dentro l'altro cambi niente, fondamentalmente. Stavamo tenendo bene il campo, abbiamo avuto delle occasioni per ripartire, però non l'abbiamo fatto con la cattiveria giusta, con la determinazione giusta, con la personalità giusta. Dopo nel secondo tempo secondo me è meglio, nel momento in cui anche abbiamo preso gol, sembrava che il campo lo stava mantenendo bene, senza particolari problemi, anzi siamo riusciti anche a creare qualche situazione. Peccato per quel gol stupido. Poi sull'1-0 mi ha sbagliato il gol davanti di testa, dell'1-pari. E' stata l'occasione un po' più pulita della partita. Esatto, e sulla situazione, sulla situazione seguente, loro hanno fatto il 2-0. La qualità della squadra è quella, cioè nel senso che oggi poi vanno i giocatori assenti perché abbiamo fatto una buona partita, sono contento della prestazione, abbiamo fatto quello che potevamo fare. Abbiamo fatto una buona partita fino a vent'ultima. Sono contento con la prestazione, l'atteggiamento, la voglia, lo spirito, quello giusto, lo mezzanè. Puoi anche venire e non portare a casa un punto, voglio dire. Le nostre partite sappiamo benissimo che sono quelle con Forza Costanza Domenica, Palazzolo, sono quelle. Qua vieni, fai bella figura, te la giochi, io dirijo casa con personalità perché è una bella opportunità, una bella esperienza. Peccato perché fino al settantesimo ce l'abbiamo riuscito. Grazie mister. Grazie a tutti.